Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Caduta per un bimbo di sei anni da uno scivolo. Il bimbo sarebbe caduto da un'altezza di circa due metri. E' accaduto nel Valdarno Aretino sul posto e i mezzi dell'emergenza urgenza della ASL Toscana sud-est. Il bimbo non sarebbe per fortuna in gravi condizioni. Avremo magari aggiornamenti su questa notizia nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. E adesso parliamo invece dell'inchiesta CEU. Il TAR sul ricorso di Chimet e TCA si è espresso. Non ci furono irregolarità. Nessuna irregolarità nello smaltimento dei rifiuti di lavorazione che TCA e Chimet hanno inviato all'impianto Le Rose di Bucine, quello al centro dell'inchiesta CEU. Il TAR della Toscana ha infatti accolto i ricorsi presentati dalle due aziende del recupero metalli preziosi di Arezzo, esprimendosi contro il provvedimento che le indicava tra i responsabili della contaminazione derivante dall'impianto Valdarnese Le Rose e le obbligava alla bonifica del sito. La sentenza adesso così cambia tutto. Le due aziende non dovranno pagare quanto previsto per la bonifica del sito, ovvero 10 milioni di euro. Alle due aziende retine e inquirenti contestavano la classificazione, da pericoloso a non pericoloso assoluto, di un particolare tipo di rifiuto conferito nell'impianto di Bucine, ovvero la scoria vetrosa, sotto prodotto della fusione di metalli. Secondo il TAR invece la comunicazione sarebbe stata corretta. Il pronunciamento arriva alla vigilia dell'udienza preliminare, in programma per il prossimo 12 aprile. La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per 24 persone e 6 società. Inquinamento ambientale, traffico di rifiuti pericolosi, associazione a delinquere, aggravata dall'agevolazione mafiosa, alcuni dei reati contestati. Il comune di Bucine e il movimento dei consumatori hanno già annunciato che si costituiranno parte civile. 76 ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale sono stati ritrovati dai carabinieri forestali di Subbiano in un'area boschiva, dove presumibilmente, proprio alla fine della Seconda Guerra Mondiale, i tedeschi avevano una linea di sbarramento all'avanzata degli alleati. Ci racconta tutto Chiara Sadotti. Ben 76 ordigni inesplosi risalenti alla Seconda Guerra Mondiale sono stati trovati dai carabinieri forestali in un'area boschiva Subbiano. Si tratta, spiegano, dall'arma di 43 bombe da mortaio da 2 pollici, 23 bombe da mortaio da 2 pollici fumogene, 9 bombe da mortaio da 3 pollici ed una granata da fucile, trovati nei primi giorni di aprile in tre diverse aree ma nel raggio di circa un chilometro, dove pare che alla fine della Seconda Guerra Mondiale i tedeschi avessero una linea di sbarramento all'avanzata degli alleati. Secondo quanto previsto dal protocollo, prontamente avviato dai militari, è intervenuta la compagine altamente specializzata del genio pontieri dell'esercito italiano, che ha prelevato gli ordigni per farli brillare all'interno di una cava dismessa poco distante. È possibile in aree, soprattutto montane, imbattersi in ordigni bellici inesplosi, spesso risalenti ai due conflitti mondiali. La prima cosa da fare, spiegano i carabinieri, è non toccare nulla e chiamare subito le forze di polizia per segnalare il ritrovamento e soprattutto non divulgare la notizia per non incorrere in pericolose curiosità o angoscianti allarmismi. Esiste un protocollo attivo a livello nazionale che con velocità e sicurezza interviene per scongiurare qualsiasi evento nocivo all'incolumità pubblica. Adesso invece parliamo di morti sul lavoro, mentre in queste ore purtroppo è aumentato il numero delle vittime per lo scoppio della centrale. di Subiana, CGL e Will in queste ore sono scese in piazza per dire basta alle morti sul lavoro. Quattro le ore di sciopero nazionale, otto per il settore edile per chiedere appunto una giusta riforma fiscale, zero morti sul lavoro e un nuovo modello sociale di fare impresa. Ad Arezzo il presidio si è svolto in piazza San Jacopo nel pomeriggio dalle 15 alle 17. C'è la necessità, dicono i due sindacati, sempre più impellente, di combattere davvero le morti sul lavoro. La salute e la sicurezza sul lavoro devono diventare un vincolo per poter esercitare l'attività di impresa. Adesso invece parliamo di sanità perché oggi c'è stata l'inaugurazione del centro operativo territoriale al Pionta, una, diciamo, delle nuove palazzine ASL, come sappiamo, che sono nate appunto nell'area del Parco Aretino. Apri le sue porte la COT, la centrale operativa territoriale di Arezzo. Uno stabile realizzato interamente ex novo dopo la demolizione di fabbricati fatiscenti presenti in quell'area non recuperabili che a un tempo ospitavano alcuni locali dell'ex ospedale psichiatrico. Un intervento da quasi 610 mila euro finanziato in gran parte con fondi PNRR. Serve per accompagnare le persone che hanno un bisogno di salute e che cambiano posto, quindi dall'ospedale devono andare al proprio domicilio o in una struttura di cure residenziali, territoriali, o viceversa persone che dal territorio necessitano, dal proprio domicilio necessitano di cure di livello maggiore. È una sorta di presa in carico e di accompagnamento. Questo è un elemento importantissimo, io ritengo fondamentale, per qualificare l'assistenza ai pazienti e alle persone che hanno bisogno in qualche modo di assistenza ed anche per sviluppare percorsi appropriati. Un taglio del nastro che delinea sempre più la cittadella della salute. Accanto alla Cotte, infatti, ha quasi finito di prendere forma anche il centro per l'autismo. Una struttura di quasi 1000 metri quadrati, suddivisa su due piani per un totale di 32 stanze, ospiterà l'attività dell'Unità Funzionale di Salute Mentale Infanzia ed Adolescenza. All'interno troveranno posto anche i locali da destinare alle associazioni che si occupano di autismo. Vedrà l'apertura probabilmente a fine estate, è un centro per la diagnosi e cura delle malattie di spettro autistico che sono sempre più importanti. E facciamo questo in collaborazione sia con il Comune di Arezzo, che ha contribuito con un milione di euro e noi con un milione e sei e anche con tutta l'Associazione dei Familiari per una partecipazione più proattiva per la presa in carico delle persone affette da questi disturbi. E allora nel servizio di Chiara Sadotti avete sentito anche l'avanzamento dei lavori per quello che diventerà appunto il nuovo centro autismo che potrebbe essere di riferimento proprio per l'intera regione toscana. Parlando proprio di autismo, in questi ultimi giorni c'era stata una infuocata polemica sollevata in questo caso dal consigliere Landi della Lega sul fatto che la regione toscana avesse negato i rimborsi per le terapie. Il consigliere aveva presentato anche una mozione. Oggi la notizia della conferma invece del sostegno da parte della regione toscana in merito proprio alle terapie e soprattutto anche ai progetti terapeutici destinati a minori con disturbi dello spettro autistico. Notizia colta con favore da parte del coordinamento toscano delle associazioni per l'autismo che però non vuole essere oggetto di strumentalizzazione politica. Come gruppo di associazioni si legge nel loro comunicato ci siamo impegnati a fondo in questo confronto con le istituzioni e il risultato di questo documento unitario da parte di tutte le forze politiche presenti in consiglio regionale dimostra che queste tematiche sono e devono rimanere patrimonio unico del bene comune e non di una parte politica. Parliamo adesso invece dell'ospis di Arezzo. Come sappiamo grazie all'accordo Stato-Regioni sono stati sbloccati finalmente i fondi e appunto l'ospis, il nuovo hospis di Arezzo potrà diventare presto una realtà concreta. 4 milioni e mezzo per il nuovo hospis di Arezzo che sarà finalmente restituito alla cittadinanza. Si tratta di risorse che arrivano grazie all'accordo di programma Stato-Regione sull'uso di oltre 61 milioni destinati in Toscana ad 11 interventi di edilizie sanitarie da modernamento tecnologico per ospedali e servizi territoriali. All'Asla Toscana Sud-Est in totale 17,7 milioni risorse che andranno su tre interventi una nuova casa di comunità a Siena e il distretto di Viale Sardegna il rinnovo di apparecchiature elettromedicali ed un nuovo hospis ad Arezzo. Quindi Arezzo riavrà quello che aveva ma in termini assolutamente migliorativi quindi una volta avvenuto meno quello che c'era a causa Covid abbiamo attraversato questi anni comunque con un servizio che in maniera diversa è stato garantito ora la realizzazione con un investimento di 4 milioni e mezzo messi a disposizione dalla regione non solo ridarà un hospis che è una struttura che oltre che essere una struttura di cure è anche una struttura direi di civiltà ma continuerà anche a riqualificare un pezzo del pionta. Il nuovo hospis avrà più spazi per malati terminali e famiglie ci saranno otto camere di degenza e due locali di dei ospital al piano terra il primo piano sarà invece destinato ai servizi per il personale dipendente. Era un impegno che ci eravamo presi un po' di tempo fa e che ora ha raggiunto una prima tappa cioè quella di avere la certezza delle risorse quindi da domani l'azienda sanitaria potrà entrare nel vivo della fase progettuale poi ci agoriamo nel cantiere per poi arrivare a dotare questa realtà di un ulteriore servizio qualificato per le persone. I tempi per l'hospis sono tempi connessi al fatto che adesso abbiamo il finanziamento usciremo con la gara per la progettazione e l'esecuzione come tutte le opere pubbliche i tempi sono quelli di qualche anno però certo è che avere il finanziamento avere già un progetto di massima ci consente di vedere la luce in fondo al tunnel e mi pare che anche questa zona della città con la sanità, la luce in fondo al tunnel e anche proprio a campo aperto la stia vedendo. Parliamo adesso invece di elezioni europee ed in particolar modo del voto fuori sede per gli studenti aritini che appunto si trovano in un comune fuori dalla Toscana per un periodo da almeno tre mesi all'interno del quale ricade proprio la data delle elezioni europee potranno votare fuori sede per le liste e i candidati della propria circoscrizione elettorale di residenza se il comune di domicilio temporaneo appartiene alla stessa circoscrizione elettorale di Arezzo cioè l'Italia centrale potranno votare nel comune di domicilio temporaneo per poterlo fare però dovranno presentare entro il 5 di maggio un'apposita domanda che è scaricabile nei siti degli uffici elettorali dei comuni. Per il prossimo weekend la Casa Museo di Van Bruschi organizza visite guidate alla nuova mostra a libera maniera arte astratta e informale nelle collezioni di Intesa San Paolo con un percorso in lingua inglese. Due gli appuntamenti per sabato 13 e domenica 14 aprile in entrambe le giornate la mattinata alle ore 11 sarà in italiano mentre al pomeriggio alle 17 sarà in inglese. Il tour adatto a tutte le fasce di età accompagnerà i visitatori in un percorso tra le 34 opere degli artisti presenti nelle sale della Casa Museo. E adesso invece parliamo della strada intitolata al tennista aretino Federico Luzzi prematuramente scomparso. Federico per me è rimasto sul cuore perché io l'ho visto proprio bambino, l'ho visto crescere, ero un ragazzo che aveva un grande talento ma anche un grande cuore. Federico ha lasciato il segno non solamente come tennista ma come persona nel nostro ambiente, era amato da tutti. Federico Luzzi aretino, grande promessa del tennis, a soli 16 anni poteva già vantare un titolo europeo e un titolo mondiale nelle categorie under 12 e under 14. Una carriera brillante, stroncata nel pieno del suo sviluppo, Federico muore nel 2008 per una leucemia fulminante. È il cuore che parla e Federico era davvero un ragazzo eccezionale, bello, bravo, capace, un campione, cioè veramente aveva una vita infinita davanti e bellissima. La famiglia, in particolare mamma Paola e la sorella Francesca, riescono a trasformare questo grande dolore in un aiuto per i malati con l'AIL, sezione di Arezzo intitolata proprio a Federico. Abbiamo comprato tutto quello che è dentro il day hospital, il reparto di ematologia è stato acquistato da AIL Arezzo e passati due anni abbiamo deciso, visto che anche il day hospital era un attimino obsoleto, un po' cupo, un po' triste, lo abbiamo rifatto tutto nuovo con colori sgargianti, mobilio nuovo, abbiamo messo tutti i quadri alle pareti con dei paesaggi che possono dare un pochino di sollievo a chi passa la mattina lì dentro. In queste ore il comune di Arezzo ha deciso anche di intitolare una strada al tennista Aretino. Siamo qui per ricordare Federico, Federico che non lascia perché rimane sempre vicino a tutti. Quello che rimane è una nostalgia infinita, un vuoto che si ingigantisce col tempo e quello non si sana, però per me è stata un aiuto, una consolazione, un sostegno, una forza e poter fare tutto questo, poter dire Federico sei contento e pensare che se da qualche altrove lui vede e percepisce tutto questo amore e questi riconoscimenti, lui può dire siete stati bravi. E infine parliamo di calcio femminile, grande soddisfazione per le giovani calciatrici under 12 dell'Arezzo Calcio Femminile, allenate da mister Andrea Bertini. Si sono infatti classificate prima in un girone con la parietà, al quale hanno preso parte anche Vigor Femminile, Aquila Montevarchi e Atletico Levane Leona. Questo ha permesso loro di accedere alla fase regionale che si darà il prossimo 22 aprile quando in un triangolare sfideranno Pisa ed Empoli. Se ovviamente avranno la meglio, anche qui potranno arrivare fino al livello nazionale che poi si svolgerà nel mese di maggio, allora in bocca al lupo insomma alle nostre Amaranto. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per l'attenzione e arrivederci. Amaranto.